allora ragazzi cominciamo col dire che questo video è veramente veramente tossico ma molto molto divertente benvenuti ragazzi su questo nuovissimo video anche oggi di fortnite in compagnia dello zio efesto che sicuramente conoscerete in molti di voi siamo tornati finalmente a fare delle due insieme per altre mamme in una duo squad in questo caso e ci siamo ritrovati a un certo punto a giocare solo ed esclusivamente con le minigun sia io che lui ci siamo divertiti davvero tanto ma soprattutto siamo divertiti la maggior parte della lobby ma soprattutto ma soprattutto l'ultimo povero giocatore che è rimasto in vita prima di iniziare però con il video ragazzi vi ricordo da subito di lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi e vi volevo ancora ringraziare per tutto il supporto che mi avete dato da quando sono tornata su fortnite anche qua su youtube gli ultimi due video sono andati veramente una bomba io sono veramente felice e veramente ragazzi grazie a tutti quanti di cuore vi ricordo inoltre di utilizzare il codice creatore corato mist nell'item shop di fortnite e potete taggarmi anche nelle vostre stories di instagram perché io condivido praticamente tutte le vostre stories di quando comprate col mio creator code vi ricordo inoltre di scrivi su twitch tutti i giorni dalle 10 alle 16 di pomeriggio con fortnite e la sera dalle 21 alle 2 di notte con valorant e delle volte anche fortnite perché si ragazzi fortnite non può mancare detto ciò ragazzi godetevi questo fantastico video fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e niente ragazzi godetevelo perché il livello di tossicità in questo in questo video è veramente alle stelle buona visione fatelo tranquillamente che vi condivido come abbiamo sempre fatto quindi tranquillamente raga riporti stappendo subito questo mannaggia 35 danno costa stappendo subito vita divertiti e non so che dirti è buono no ok sono scelta la trucco lo aiuto io direi di aprire il volto che dici come la mia cassaforte il buchero apriti il volt è inglese si volte dove ci sono tipo la camera dei segreti tipo mi sono spaventata vabbè due spiccioli ah guarda qui come spari tossici tossici check dai avaro è la quarta volta che ho giro dai mi dia colpi leggeri ora che abbiamo il momento addosso venga a coprire colpi di medi un altro un altro su dove che roba da tossici uè genitriche abbandonata partita qualcuno qua mi stavo divertendo ok è dentro ah no perché picconare quando è la minigun giusto sì appunto germoglio di sole germoglio di sole f***a che nome oh tossici chi spari Tossica Quanto è divertente Oh cazzo Cado uno Cado un altro Cioè non stiamo usando nulla Solo minican e tomican Bello ci piace Voto 10 Ah è quelli qua Una morta Oh mio dio Ah pure la cappa mitico questa aveva Ah mitico Prenditi la minica mitica Eccola qui Vai 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 Eh fai doppia minica Lo facciamo Vai 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 Proprio una ne uso No Dammene una E roba tossica Che stiamo per fare Io ho paura Oh che cazzo Ah pensavo che avessi messo un altro pure tu Ma che cavolo è che mi spara C'è uno fuori safe che rompe le scatole Ok perché non ho le bende Quaranta Ok Ok Arrivo arrivo Tre volte Arrivate Magari civile Bello dio Arriva dato Pronto shield Faccio il me di cuore Adesso siamo vedendo un po' i dolcici qua Guarda devo mettere che è divertente Non posso lamentarmi Sinceramente Un po' di validi in queste vittorie Eccoli Picciogini belli In fondo Vai Distrutto Distrutto Ok è rimasto uno Vogliamo spammare Ma senza il tallo All'ultimo Che cosa fai aiutare Con il singolo materiale Hai buttato tutte le armi Ma quello dovrebbe Stai cos'è la vinica Non voglio uccidere Voglio tanto spammare E fai aiutare tutti i materiali Ok l'hai aiutato una volta Vabbè proviamo il volo Proviamo il volo Perché jumpa via Prima o poi dovrei affrontarci Eh ma questo Gli sto cagando in mano La 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 Guarda questo sta bestemmiando Vedete La 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 Lì 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 Fuori due Fuori tre E' arrivata la 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 Se vado Io non lo sto hitando eh Di proposito Oh cazzo No cazzo È bianco è bianco sì Aspetta non sto male Aspetta fai i scilini Si è sciltato Si è sciltato E' pronto è pronto Vai 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 ultimo E ho finito i colpi praticamente Ne ho cento Hello brother Siamo amici Mi sto a c***o a mano Perché questo mi one tappa sicuro Aiuto ragazzi La vendico io non ti provo Eccola Vieni qua Vieni da me Guarda è a destra della porta Laceriamo il muro Vai YOLO Questo sta bestemmiando Oh Stai calmo No non le finisce Ma è impossibile che non le finisca Ah muori di safe Muori di safe Muori di safe Muori di safe Stai facendo lo cildino Dai che tanto me parto alla prossima Andra pure che ti dà finta L'ho già passata Io do una botta solamente perché se no ci butta fuori Aspetta Dai per teaming Ora morirà Ora morirà Ma è vero amore Martela safe Addio amore mio È stato bello star con te Tu hai un po' pelata Guarda si fa il medikit No ha fatto Era un uomo italiano Simon Castro PC Siamo proprio delle cattive persone Ma Orrende Siamo proprio toccati Incalliti Porca Persone Orrendissime Ma 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 Ma